Nell'ultima giornata della regular season del campionato di Serie D di basket, Adrano supera Siracusa 94-68 e si assicura il piazzamento migliore nella griglia play-off. Gli Adraniti si aggiudicano il primo posto, frutto di 12 vittorie e due sole sconfitte. Nei play-off le Aquile Adrano potranno contare sempre sul vantaggio di poter giocare l'eventuale gara 3 in casa. Alla tenzostruttura gli Adraniti sono partiti come al solito a 1000, prendendo subito il vantaggio a doppia cifra sui R2-6, che sotto alle planche non riescono a contenere la fisicità dominante dei gestisti Adraniti. Verzi su tutti MVP del match con 30 punti a referto. Siracusa sarà l'avversario di Adrano nella semifinale play-off. Nel campionato di Serie C1 di calcio a 5 cade ancora l'SD città di Adrano battuto 5-2 in casa dalla Sicil Grassi. Inutile la doppietta di Nicolosi per gli Adraniti. La formazione di Gervasi resta comunque in piena zona play-off e già da domenica prossima trasferta a Barcellona Pozzo di Gotto cercherà di riallacciare il filo con la vittoria. Nel campionato di terza categoria di calcio, ottima vittoria della Dranitana che all'Orazio Reti di Biancavilla supera 2-0 l'Accademic Altagirone. Di Reine e Amelio le marcature della squadra di Davide Pulvirenti che con questo successo aggancia la zona play-off scavalcando proprio i calatini in classifica. Vittoria esterna per il San Giuseppe Volley nel campionato femminile di Serie D di pallavolo. Le pallavoliste adranite spugnano a gira 3-2 e si rilanciano in classifica.